Al via la raccolta di firme per i 12 referendum proposti dai radicali, serviranno 500.000 sottoscrizioni in tre mesi, ma quali sono i temi dei quesiti? Vediamo il servizio. I referendum sono 12 e hanno a che fare, per una metà con l'amministrazione della giustizia, cioè con la riforma di ciò che noi riteniamo essere ormai diventato uno dei problemi strutturali della nostra Repubblica, cioè il malfunzionamento dei diritti civili, e altri invece relativi a temi come il divorzio breve, l'immigrazione, riteniamo che si debbano regolarmente dare quanti più immigrati presenti con un lavoro possibile qui in Italia, la depenalizzazione del possesso di tutte le sostanze superfacenti, l'abolizione dell'ergastolo, perché secondo noi è incostituzionale, e tutta un'altra serie di temi che ha a che fare diciamo più con delle questioni magari minime, ma che hanno un risvolto non marginale sulla vita degli italiani. Una iniziativa importante per i diritti e la giustizia? Non soltanto per i diritti e la giustizia, ma anche per la partecipazione civile a un contesto politico che ancora rimane bloccato su delle dinamiche tra partiti. Parte questa campagna di raccolta firme che devono essere 500.000 in tre mesi? Noi sappiamo che con 500.000 firme si possono raccogliere agli italiani intorno a dei temi e che questi quando vengono poi portati al voto sono vincolanti, modificano delle leggi e quindi il cittadino diventa legislatore.